good morning guys dopo questo periodo veramente negativo che ci sta relegando in casa tutti quanti si sta avvicinando a quella che è la riapertura della stagione motociclistica e lo spero con tutto me stesso ragazzi io non ce la faccio più e quindi ragazzi mi son detto cos'è che posso fare prima di iniziare seriamente ad andare in motocicletta pulire il mio casco intanto sottofondo sta andando il video dalle colline al mare se non l'avete visto qui sopra il link in descrizione per poterlo vedere ragazzi oggi con questo video vorrei condividere con voi i sistemi il metodo chiamatelo come vi pare ho perso il filo che volevo dire ricomincio oggi con questo video ragazzi voglio condividere con voi i metodi che utilizzo per pulire il mio casco e sì che era semplice dirlo è il primo step da fare è farvi vedere quello che io utilizzo ovviamente la prima cosa da andare ad utilizzare che cos'è il casco fin qua ci siamo seconda cosa che utilizzo non è specifica per la moto però finora mi ci sono sempre trovato molto bene sgrassatore per pulire la visiera dal nulla è comparso seconda cosa che mi serve con lo sgrassatore è un panno le ultime due cose che mi servono e facciamo comparire insieme sono un bicchiere e due contofioc primo step da fare eliminare visiera e tutte quante le imbottiture interne eliminare l'interfono e tutti quanti gli attacchi della gopro che ho in giro per il casco detta così sembrano chissà quanti in realtà è uno solo questo qui davanti terzo step mettere in lavatrice l'imbottitura quarto step mentre l'imbottitura lava pulire tutta quella che la calotta e la visiera ma a fondo quindi ora non ci resta che iniziare il lavoro ragazzi prima cosa da fare rimuoviamo la visiera qui dietro si tira questo firmino qua e la visiera in un secondo viene via dal primo aggancio ripeto la cosa dall'altra parte l'apro tutta visiera tolta step successivo come vi dicevo prima andare eliminare quelle che sono tutte quante le imbottiture interne le imbottiture interne sono sempre a bottone quindi basta tirare e si staccano ok prima imbottitura tolta quindi che è tutta quella che fa da paracollo ora vado eliminare tutta quella che la calotta sopra la testa di imbottitura sempre a bottoncino e si toglie la calotta sempre imbottitura ultima cosa che io posso andare eliminare è il paramento quello che ci ripara dai spifferi sul mento che questo fondamentalmente è a pressione tolta anche questo ricordatevi ragazzi sul polistirolo non ci buttate nessun additivo o sostanze particolari perché potrebbe andare a modificare quella che la sua composizione chimica fisica non so bene spiegarvi però poi non funzionerebbe più come deve e quindi poi non vi proteggerebbe più come dovrebbe fare puliamo quelle che sono le imbottiture qui dentro si lascia magari arieggiare il casco ma poi ci concentriamo sulla parte esterna passo alla parte successiva che è quella di togliere l'interfono e l'appoggiamo qua tolgo il supporto della gopro così gli do anche una bella lavata il che non fa mai male ecco qua e anche il supporto gopro è andato via non mi ricordo bene i passaggi che vi ho detto vado a mettere l'imbottitura in lavatrice lavaggio a 30 gradi per delicati poca centrifuga molto da stressare poco i prodotti calotta avvolgicollo non mi ricordo come si chiama e ci metto anche la preparamento mettiamo un detersivo neutro poi ci metto anche il napisan in modo tale da andare a igienizzare bene bene il tutto successivamente per l'asciugatura siccome ho questa fortuna utilizzo la mia asciugatrice ora torniamo di la che si continua metto il casco da parte e come prima cosa pulisco la visiera ragazzi sicuramente qualcuno di voi mi dirà ma c'è questo prodotto specifico non discuto sono d'accordo io ho sempre utilizzato lui perché la prima volta che ho fatto questo lavoro avevo lui in casa mi sono trovato bene com'è che si dice squadra vincente non si cambia spruzzo un bel po di sgrassatore sul panno e comincio a pulire la visiera maiale graffi che c'ho sulla visiera visiera bella pulita ora entro in scena il bicchiere e cotton fioc forse l'ho messo anche troppo ci immergiamo il cotton fioc e la prima cosa che vado a pulire sono le prese d'aria quindi parto dalla testa vado a pulire all'interno tante volte mi capita che ci vada a togliere insetti le prese d'aria si possono raggiungere solo da fuori da dentro nel 90 per cento dei casi non si può fare tutto il casco interamente è fatto di polistirolo che è la parte veramente più importante di un casco è la parte che va a tutire a tutti gli effetti l'impatto l'urto e si spera sempre che non succeda mai presa d'aria ce l'abbiamo anche dietro che è fatta così in gratina ma questa meno male essendo dietro non si sporca perché l'aria arriva davanti passa sopra vabbè chi vi sa spiegare cose che già sapete e andiamo a pulire la presa d'aria sul naso naso volevo dire mento ci siamo capiti però dai tutta la guarnizione andiamo a pulire guardate la sporcizza che vi invia dalla guarnizione ora visto che ci sono e ho il casco dritto in questo modo tiro giù anche la visiera questa qui che è veramente lercia madonna quanto è lercia mi sento un po' come tipo un top gun quando la uso vado a pulire quelli che sono gli ingranaggi della visiera questa non è una cosa fondamentale però si va a mettere tantissima polvere non rimane che fare la pulizia della calotta esterna si torna al panno bianco sgrassatore qui ne mettiamo a volontà e andiamo a pulire bene 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 devo dire che sono veramente soddisfatto non mi rimane che riattaccare la visiera chiudo vediamo un po' bellissimo sembra veramente come nuovo ora aspettiamo che tutta quanta l'imbottitura interna si lavi e si asciughi dopodiché ci rivediamo qua montiamo tutto quanto dentro a dopo ragazzi eccoci ragazzi ciao di nuovo dopo tutta la notte di lavaggio e asciugatura e ho lasciato comunque all'aria ben ben tutte queste parti da asciugare sono pronto per rifare il montaggio però prima bisogna fare l'annusata qualità fantastico come come nuovo cominciamo a riassemblare il tutto partendo dalla parte della capoccia fortunatamente sono tutti quanti attacchi a bottone ma scrocchiato anche il dito aia ora rimettiamo tutta la parte che è intorno al collo quindi il paracollo e che va a imbottire anche la parte delle guance consiglio rimettete prima questa parte qui che è quella che si infila fra casco e polistirolo perché poi altrimenti se prima mettete i bottoni e poi mettete questa parte qui risulta un pochino difficile andare a mettere perfetto casco rimesso a nuovo l'ultima parte che manca che è una parte semplicissima da mettere è questa che va a protezione del mento messa lavoro finito devo dire che sono molto contento perché casco è molto pulito e soprattutto è profumato pronti a sudarci di nuovo dentro per chi non volesse utilizzare la lavatrice si può anche lavare tranquillamente a mano però dovete sciacquare molto 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 perché altrimenti poi a qualcuno il detersivo potrebbe andare a irritare con il sudore sulla pelle avete visto che è un lavoro veramente molto semplice da fare l'unica rottura di scatole e dover aspettare che l'imbottitura si asciughi però fortunatamente stiamo andando incontro all'estate e quindi il caldo ci viene in aiuto in questo come sempre spero di esservi stato di aiuto in qualche modo con questo video ragazzi ricordate di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi